Le 16 famiglie sgomberate lo scorso ottobre dalle palazzine che si trovano ai numeri civici 23 e 25 di piazza 28 dicembre a Ortona, a rischio crollo, entro Natale avranno una nuova casa. Lo hanno assicurato oggi nel corso di un incontro pubblico il presidente dell'Atera Antonio Tavani e il sindaco Leo Castiglione. Dopo aver trovato una sistemazione per otto famiglie della palazzina popolare gemella al civico 27 che dovrà essere abbattuta, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale e il comune stanno provvedendo ad assegnare provvisoriamente altre abitazioni che l'Atera ha ristrutturato ai residenti dei civici 23 e 25. Faremo il possibile per restituirvi le vostre case e se riusciremo a ristrutturarle avrete diritto di prelazione, hanno detto il presidente Tavani e il sindaco Castiglione incontrando gli inquilini insieme al direttore dell'Ater Giuseppe D'Alessandro e all'ingegnere Guido Camata che ha eseguito uno studio sulle condizioni degli edifici a rischio crollo. Lo Stato delle cose non ci consente di far rientrare le famiglie negli alloggi che abbiamo sgomberato, con le due ordinanze del sindaco di Ortona offriremo una sistemazione definitiva in alloggi Ater ristrutturati da Ortona. Gli alloggi sono pronti, dal lunedì noi penseremo a sistemare le famiglie, ad assegnare a fare i contratti e abbiamo pensato anche alle operazioni di trasloco. Dove? In Fonte Grande, in tutti i quartieri di Ortona, centro dove avevamo alloggi disponibili. Otto famiglie della prima palazzina sono già sotto un tetto, hanno già l'Ater in pochissimi giorni reperito delle abitazioni per appunto destinarle a loro, quindi questa è stata la dimostrazione. Ma l'Ater è andata oltre, io mi sento di ringraziarli perché insieme a noi la protezione civile aveva già previsto la situazione peggiore e per questo ha lavorato nel recuperare e sistemare altri appartamenti nell'eventualità appunto della peggiore delle ipotesi e questo purtroppo è avvenuto. Io capisco appunto lo stato d'animo dei miei concittadini che è lo stato d'animo di tutti perché ritrovarsi senza un'abitazione dall'oggi al domani è qualcosa che logicamente ti fa pensare. Delusione e commozione delle famiglie che non vogliono perdere le abitazioni in cui hanno vissuto per tanti anni. Eravamo già consapevoli che dovevamo abbandonare le nostre case, poi ci è stato detto che invece dopo dieci giorni saremo rientrati a casa nostra e hanno detto del falso, sono venuti dicendo che avevano fatto le trivellazioni a 90 metri, che gli edifici erano stabili, potevamo rientrare. Con l'affermazione del Presidente Davani abbiamo riscontrato che i nostri dubbi ora sono diventati certezze. Abbiamo lasciato case nostre, abbiamo fatto dei lavori dentro, abbiamo speso tempo e denaro e vogliamo sapere se questo denaro che abbiamo speso viene restituito o no.